Bene il settore delle automobili, ma anche il turismo, meno il commercio, dati che emergono dal rapporto sull'economia abruzzese della Banca d'Italia. L'attività produttiva in Abruzzo è cresciuta nel primo semestre dell'anno rispetto al semestre corrispondente del 2022. Bene il settore dell'automotive, che è uno dei più importanti e trenanti in regione, bene anche il settore farmaceutico, con una forte espansione delle esportazioni. Un sondaggio sulle imprese manufatturiere della banca fa emergere pure una moderata crescita delle ore lavorate. Nell'edilizia si è attenuato l'effetto indotto dagli incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio. I livelli di attività hanno però beneficiato del PNRR, contrazione poi delle comprevendite nel mercato immobiliare. Si vede intanto una crescita del prodotto interno nodo della regione, secondo i dati della Banca d'Italia, dell'1,2%, quindi in linea con il dato nazionale. Si vede però un progressivo rallentamento, sia rispetto agli anni precedenti, sia all'interno stesso del primo semestre, con un primo trimestre più forte e un secondo più debole. Questo rallentamento è coerente con la situazione di aumento dei tassi di interesse e di inflazione che incide sulla capacità di spesa delle famiglie. Alcuni settori sono andati bene, l'industria automobilistica ha risolto i problemi di approfiggionamento degli input produttivi, è andato bene anche il farmaceutico. Nei servizi si è vista una crescita del turismo, anche se minore rispetto all'anno scorso, mentre il commercio ha risentito un po' della minore capacità di spesa delle famiglie. Il PNRR è stato particolarmente significativo in regione, con fondi assegnati che si ragguagliano a 3.000 euro pro capite, quindi oltre il 40% sopra alla media nazionale. Sul fronte dell'occupazione è proseguito il miglioramento del quadro occupazionale, soprattutto quella femminile, che ha recuperato i livelli prepandemici. Cresciute le posizioni lavorative, sia a termine che a tempo indeterminato, questo in tutti i settori, tranne che nelle costruzioni sono diminuiti i prestiti alle imprese.